Puoi davvero riconquistare l'ex? Sicuramente hai visto un sacco di pubblicità, un sacco di stronzate che ti vengono online, sicuramente hai comprato quelle cose e hai scoperto che in realtà sono tutte puttanate, ovvero sei stata tra virgolette truffata, si potrebbe dire così in alcuni termini. Quindi riconquistare l'ex è fattibile se l'ex viene messo e posizionato con un obiettivo secondario, se viene posizionato con un obiettivo primario questa cosa non accadrà mai. A parte che è già una cosa difficilissima, quando è capitato a me in passato, in entrambi i casi poi uno dei due si accorgeva sempre che gli errori erano sempre gli stessi, stava sempre in merda uguale, quindi ci si lasciava. Ma bando alle ciance, quindi in questo io ti svelerò se puoi davvero riconquistare l'ex o meno, anche se ti ho già spoilerato un po' di cose. Se non sai che sono io, sono Federico Picchianti, l'esperto number one in Italia nelle relazioni sentimentali, faccio questo da sei anni e sono laureato in scienziazione della formazione 110 e lode, ho oltre mezzo milioni di follower tra tutti i vari social media e sono il fondatore della startup Club Riservato, una startup dedicata e unica per la crescita personale femminile. Ma bando alle ciance, vediamo di che si tratta. Allora, ciao club, passa il tempo, mi sembra tutto risolto, sto riascoltando il corso sull'ottice seriale, ci vuole tempo ma non mi sento come vorrei, intendo tranquilla nel processo. La riformazione serve a me, mi ha consigliato di non farlo aspettando la persona di cui sono innamorata, esatto. Io sono nel club per questi due motivi, imparare come comportarmi di uomini e riprendermi lui. Io penso ci sia un mio errore di marketing in questo caso perché, a parte che io vedo che sta spopolando, c'è tante pubblicità sul riconquistare, ma voi non avete mai passato, tra virgolette, l'inferno che ho passato io, non di dolore, ma di ricerca, no? Nel capire se ci fosse davvero qualcosa di funzionale per riconquistare la persona, non esiste. Cioè nel senso, tutto quello che vedete, i programmi di riconquista, loro vi vendono un solo prodotto con una sola proposta, cioè riconquistare l'uomo, e fanno un sacco di soldi, fanno più soldi di me, garantito perché conosco le persone, ok? Loro fanno un sacco di soldi, parliamo comunque di cifre molto alte, ok? Ora, fanno leva sulla riconquista. La riconquista si può fare in modo indiretto, ma non è come ve la vendono fuori, ok? Cioè, se tu ci fai caso, io non ho creato dei corsi dove c'è scritto riconquista l'ex. Ci sono dei corsi che sicuramente ti riprogrammano mentalmente, e quindi il fatto che poi sai come comportarti con l'ex c'è. Ma quando sento la gente che viene in consulenza, oppure nel club riservato, e vuole insistere a riconquistare una persona, e non capisce che prima deve riconquistare se stessa, a me dispiace, nel senso, cioè mi dispiace molto, cioè a riprendermi lui e far evolvere quel rapporto. Ragazzi, no. Anni di scopamicizia. Cioè, tu sei stata per anni vista come una solo per scopare, e pensi di creare un rapporto? stabile, con uno che scopare e basta, è tosta, è dura, si può fare, certo, come no? 9 volte su 10 va male, però. Perché io mi vanto di saperne più degli altri? Perché ti dico la verità. Forse gli altri ne sanno quanto me, sicuramente ne sanno i meno. Ma io ti dico la verità, ok? Cioè, riconquistare una persona, riconquistare un ex, è un passo, una cosa così difficile che a me è capitato. Ma poi non è durata tantissimo. Io capivo che non eravamo fatti l'uno per l'altra. Nell'altro caso... è sempre da così. Lei capiva che non eravamo fatti l'uno per l'altra, perché poi io ritornavo alle vecchie abitudini, no? Nelle volte in cui mi riprendevo l'ex. Quindi sì, puoi riconquistare l'ex, ma... Non è come apprendere una strategia di seduzione, flertare, saper conquistare una persona, saperla persuadere. Non è la stessa cosa. Cioè, stai parlando di riconquistare una persona che ha già capito che non vuole te. Cioè, dura. Se sei stata tu a lasciare, magari hai delle chance, no? Chiedi scusa alla persona, gli prendi una cosa in mano, si può fare. Ma... Se ti ha lasciato la persona, o magari ti vedeva solo come scopamica, l'è dura. Cioè, l'è dura proprio, eh? Allora... Ok? E dice, ah, anni di scopamicizia. Sono finiti quando gli ho chiesto che cosa fossimo, dove andassimo. Anche questo. Se tu avessi fatto i miei corsi in anticipo, diresti, cazzo, eh... Questa non è una cosa che devo fare dopo anni. Dovrei fare tipo dopo qualche mese. No? In uno dei primi moduli, il King dice, facendo questo passo, la donna è quasi come togliersi il dovere in quanto uomo, toglierti il dovere in quanto uomo, la sua idea di conquista è detto a parole mie. Sì, ma dopo un certo lasso di tempo, cioè di mesi, è normale che ti esponi tu, ok? Davanti a me è una persona stratega, con me è sempre stato presente, complice nei luoghi di lavoro, complice vuori, si è sempre fidato, eravamo tutto, dopo sei mesi ancora non accetto che sia tutto cambiato. È tornato a pochi giorni da un viaggio, durante il quale mi ho informato di come procedeva. Da quando è rientrato, non mi ha scritto, bla bla bla, queste tutte le cose, cioè, tutte le risposte che sono i corsi, no? Eh, non lo sento, sto male, soprattutto perché tra poi... Cioè, ma porca put... Mmm. Io vorrei che voi, adesso tu sei capitato, tutto tiro, quindi mi dispiace, però è funzionale la cosa. Io vorrei che tu capissi che il tuo obiettivo primario non può essere riconquistare l'ex. Riconquistare l'ex può essere solo un obiettivo secondario. Secondario vuol dire che io prima mi dedico a me stessa, prima frequento altre persone, prima lo spazio ad altri uomini potenziali, e in seconda battuta, come seconda linea, se mai dovesse ritornare l'ex, so come comportarmi. perché il fatto che io abbia come obiettivo primario la riconquista di me stessa, la ripresa di me stessa, inevitabilmente è una buona esca, tra virgolette, per far vedere all'altra persona che forse vale la pena tornare da me. That's it! Ok? Quindi solo quello. Poi tu dici per l'ora è qua, mi alleggerisci, non riesco a far cambiare le cose perché mi sento in fece anche se non mi manca niente la vita quotidiana. Ok, certo, sfogarti e scriverlo qui nel club sicuramente fa bene, ma l'importante è capire che devi assolutamente mettere un obiettivo primario diverso da riconquistare l'ex. Cioè, l'obiettivo primario è trovo un altro uomo, cavolo. Se non lo trovo, mentre flerto con altri uomini, caso mai lui dovesse tornare da me, con lui sarà come se ricominciasse a frequentare un altro uomo. Ecco perché io non faccio, non ho ancora affatto, poi lo farò un corso su riconquistare l'ex, però dirò la verità nel corso, quindi non venderà tantissimo, perché vendono le stronzate, ho capito bene in questo business, ormai che escono come funghi, ok? Che se io faccio magari un corso su che ne so, la psicologia, l'utilizzo magari, la persuasione, eccetera, quello non vende. Perché io interessa riconquistare l'ex. Regà, l'ex non si riconquista facendo come primo obiettivo la riconquista dell'ex. Questo lo dovete stampare in testa, ok? Grazie a tutti